La leggenda dell'Inter, esserlo è già una cosa positiva, importante e gratifica sicuramente, però non credo di essere la leggenda, faccio parte di un gruppo di ragazzi, di personaggi che hanno fatto grande l'Inter. La Coppa Intercontinentale contro l'Indipendente, dove ho fatto il gol della vittoria, l'azione è mia personale dalla nostra area di rigore, un paio di dribbling che ero abbastanza abituato a fare, lancio a pero, però mi ha rimesso la palla in mezzo, stop di petto e ho fatto il gol della vittoria. Mi sono sentito molto importante, poi sono tornato normale come gli altri. L'Inter mi ha dato tutto, mi ha creato da ragazzo uomo, mi ha dato tante soddisfazioni come credo di aver dato qualcosina anch'io. La Coppa Intercontinentale contro l'Indipendente 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 contro l'Indipend